e non sulle... e non sulle... e non sulle... allora questa è l'intervista ok, allora, saluta, buonasera a tutti buonasera a tutti, siamo qui al nuovo punto intervista del margine oratorio abbiamo qui una nostra amica che si chiama... come? Martina, bene, allora Martina, perché sei qui al margine oratorio? partecipate, le iscrizioni, tutte le ragioni, tuoi fratello deve giocare come si chiama quel salto di voi? e ancora, buono del video, per sopportare una come te bravo Lisa non è vero, tu sei brava, sei bravissima, certo, guardatela bene se puoi essere brava allora Martina, ti stai divertendo non me lo sento, ma ti diverti di più quando sei qui mangio quando viene a fare catechismo cosa facciamo? ti annoia a catechismo? ti metto adesso ti faccio una domanda sul catechismo nooo dai, bravo Luca, dai Luca bravo Luca vedi il terzo comandamento nooo vedi il terzo comandamento nooo vedete, noi cerchiamo di impararli anche delle cose della fede cattolica ma non ce la facciamo dai, il terzo nooo ok, va bene allora avete conosciuto Martina, se volete conoscerla di persona venite qui al magico oratorio se volete avere un mal di testa gratuito, potete passare anche solo 2 minuti con Martina e il mal di testa è sicurato saluta è vero bravo Luca buona, ben sospetto, bravo Luca